Santa Barbara e i santi noi diciamo solitamente amici di Gesù. Santa Barbara è una grande amica perché è martire oltre ad essere santa. Ha saputo testimoniare la sua fede fino all'effusione del sangue. Credo in questo anno, anno della fede, è importante ricordare la figura, la testimonianza dei martiri. Uomini e donne dalla fede vera, quella fede capace poi di spargere anche il sangue, di testimoniare l'amore verso Cristo con lo spargimento del sangue. Ecco, insomma, emblema anche poi dei tanti sacrifici che questo corpo fa, insomma, li ricordiamo in tantissime situazioni. Sì, è vero perché il vigile del fuoco svolge una professione, direi una missione molto delicata, molto rischiosa. Se pensiamo anche al fatto, per esempio, che Santa Barbara non è soltanto la loro patrona, ma anche dei marinai, dei minatori, dei benzinai, di tutti coloro che hanno a che fare un po' col fuoco e quindi con materiali infiammabili, quindi a rischio. È una testimonianza anche questa, è una forma di amore, amore verso gli altri, verso la società. E poi se c'è la fede, come per grazia di Dio ci testimoniano i vigili del fuoco di sala, se c'è anche la fede diventa testimonianza anche cristiana.